io signore e signori come avete potuto vedere dal titolo oggi abbiamo a disposizione un outfit di un marchio molto noto ricercato da tutti e oggi a dubai vi faremo vedere come si fa flex guardate il video fino alla fine wow è uscito l'outfit della lidl sono uno spettacolo le vanno a ruba tutte le vogliono ma anche io le voglio e qui a dubai adesso sono uno spettacolo pronto lidl voglio subito qui le ciabatte e la maglietta della lidl in esclusiva a dubai a the palm hotel atlas subito adesso thank you very much lidl è già arrivato a dubai il numero uno al mondo tutto è arrivato super veloce lidl penso che è un marchio numero uno al mondo la maglietta un servizio così solo a dubai si può e siccome noi siamo a dubai e a dubai si fanno le cose in grandi non abbiamo una sola ciabatta ma ben due stop mettete like e condividete questo video al massimo perché noi oggi andiamo con l'outfit lidl per dubai con lamborghini profumato bello fresco siete pronti a fare casino in dubai city lamborghini è fuori let's go sono indeciso quale lamborghini usare ne prendo una caso andiamo ciao 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 Adam, non stai aperto! Grazie a tutti. Grazie a tutti. E Malietta e Lidl a Dubai, gli unici al mondo. Adesso stiamo andando al supermercato, siamo quasi arrivati e nel frattempo vi facciamo vedere questa splendida città. Lidl, mandateci tutti i vostri nuove uscite direttamente qua e ci pensiamo noi. Facciamo il pieno a questa bestia, costa veramente pochissimo. Un dirham punto otto e niente, trenta centenze. Signore e signore, siamo a Boccavino. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Vai vai, prima che ci arrestano. Benvenuti al Dubai Mall, adesso è il nuovo person. Dubai Mall con la manietta della Lidl, primo vicino Rolex. I papucci Lidl. è uno spettacolo unico, questa è la fontana più grande del mondo. Qua è Bors Khalifa, spettacolare. musica. Signore e signore, eccoci qua a fine del video. abbiamo avuto dei problemi anche con la polizia, c'è troppo stile, allora ci hanno dovuto fermare. Ho detto che ci sono troppe marche qua e la Lidl la vogliono a tutti i costi, quindi Lidl può aprire al Dubai Mall. Spero che vi è piaciuto, like e commentate per i prossimi video. Ciao. 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 Grazie.